Eccoci, eccoci, buonasera a tutti, siamo dal vivo. Allora, adesso aspettiamo che si connettano un po' di persone, solitamente i nostri follower sono abbastanza veloci a collegarsi nei primi minuti, infatti sono già 26. Allora, questa sera abbiamo una live molto importante, molto molto interessante. Abbiamo un ospite particolare, una collaborazione che è nata quasi per caso su Twitter, ma che ci fa molto piacere, proprio perché con Enrico, che adesso presentiamo bene, anzi di Enrico avevamo già condiviso diversi articoli. Allora, chi è il nostro ospite stasera? Enrico Mariutti è un analista sui temi della sostenibilità e della transizione energetica, nonché uno scrittore, giornalista, che scrive sul Sole 24 ore sulla rubrica Econopoli, dove tratta appunto di questi temi, con un piglio decisamente orientato ai dati e ai numeri, come piace a noi. Allora, vedo che sono già più di 80 spettatori e continuano a crescere, quindi ottimo. Ovviamente con me questa sera c'è anche Fulvio, che conoscete ormai tutti benissimo. Bene, quindi da cosa partiamo? Partiamo da una domanda, diciamo, di carattere generale. Enrico, lo stato del giornalismo italiano noi l'abbiamo spesso commentato sulla nostra pagina con toni non esattamente entusiasti. Diciamo che tu sei uno dei pochi giornalisti che abbiamo appunto elogiato, mentre solitamente quando i tuoi colleghi parlano di temi ambientali o energetici dicono delle assurdità clamorose. C'è un motivo per cui il giornalismo è in questo stato comatoso e che cosa si può fare oggi? Allora, innanzitutto ti ringrazio per la presentazione, sono molto contento di partecipare a questa live perché appunto ci siamo incrociati più volte sui social e sicuramente appunto penso di poter dire che da prospettive magari un po' diverse, ma rappresentiamo quello che oggi bisognerebbe definire l'ambientalismo razionalista, cioè quello che non nega l'esistenza dei problemi perché sarebbe una questione di antiscientificità, i problemi e la scienza che ce li sottolinea, ma che poi si rende perfettamente conto che la definizione delle soluzioni è una questione di valutazione rischi e benefici, insomma riguarda più la politica rispetto che alla scienza. Detto questo rispondo alla tua domanda, io sposterei il bersaglio dai giornalisti a il livello superiore che è quelli che potremmo definire gli advisor dei media, cioè che vuol dire. Io per esempio, tu mi hai definito giornalista perché oggettivamente scrivo sul Sole 24 ore, ma io non sono un giornalista, sono un analista, nel senso non ho neanche l'abilitazione, il patentino, non so che cosa serva, e quindi io questi argomenti li studio e quindi quando io vado a scrivere di questi argomenti scrivo quello che studio, sono argomenti che conosco. Il giornalista puro è semplicemente una persona che è destinata a diffondere informazioni, però queste informazioni gli vengono passate perché se no il giornalista dovrebbe essere uno specialista di qualsiasi argomento, ovviamente non può essere così. Ovviamente da quando è esploso questo argomento i giornali, i mass media più in generale, hanno iniziato a cercare di capirci qualcosa, e per fare questo che cosa fai? Ti vai ad appoggiare a quelle che ufficialmente risultano le fonti più autorevoli, e cioè le organizzazioni ambientaliste, perché se noi guardiamo a questo problema in prospettiva storica, chi è che da 60 anni, 50 anni, rilancia questo problema? Greenpeace, l'equivalente, insomma le gambiente, WWF, tutta quella galassia, però qual è il punto? È che tanto quanto quelle organizzazioni hanno fatto un'attività nobile nel sollevare l'argomento, tanto ora stanno facendo un gran casino, se mi permettete l'espressione, nella definizione delle soluzioni, d'accordo? È questo il grande non detto del dibattito ambientale. Gli ambientalisti avevano ragione nella definizione del problema, beh vorrei vedere che avevano ragione. Assistiamo, in quest'ultimo mese abbiamo assistito a degli eventi che chiaramente segnalano il fatto che qualcosa sta cambiando, d'accordo? Quindi nella denuncia del problema il mondo ambientalista aveva ragione. Poi nella definizione delle soluzioni ha preso una strada tutta sua che invece da un'ottica razionalista e pragmatica è no sense. I giornali, i mass media, cercando di capirci qualche cosa, vanno a chiedere a queste associazioni, ma anche semplicemente alla personalità di riferimento di ciascuna associazione, il direttore scientifico. Cioè è un processo in realtà molto razionale quello che fanno i media, però in realtà non tiene conto della cornice. e c'è un dibattito paurosamente sbilanciato in cui, non so, cerchiamo di fare un parallelo che darà molto fastidio agli ambientalisti, però sostanzialmente è come andare a chiedere a chi sosteneva l'importanza di una dieta paleo, non so come dire, di spiegarti perché. Certo, quello ti spiegherà a modo suo perché è giusto fare una dieta paleo, frutta ariana o chissà che altro. Quello che però bisognerebbe cercare di capire è che bisogna ampliare l'accesso a informazioni, soprattutto per chi poi diventa un megafono di queste informazioni come i mass media e dobbiamo, appunto, anche noi specialisti cercare di proporre ai mass media delle narrative, dei dati diversi da quelli a cui possono accedere normalmente. Quindi Enrico, non pensi che ci sia anche una volontà da parte dei giornali, dei giornalisti, di andare a cercare solo un certo tipo di informazioni o mi stai dicendo che loro sinceramente stanno cercando di informarsi, vanno da quelli che secondo loro sono gli esperti, cioè Greenpeace e le associazioni ambientaliste, e vedono solo quella visione lì? Non pensi che ci sia anche una volontà da parte dei giornalisti di ascoltare solo alcuni esperti, diciamo, tra virgolette, per paura di perdere, non so, lettori, copie vendute, eccetera, parlando di argomenti per l'appunto come il nucleare o cose del genere? Allora, ovviamente no, nel senso sicuramente è una questione di grigi che si mescolano. Io penso che ci siano tanti giornalisti che semplicemente fanno il loro lavoro e quindi si vanno a documentare, poi ovviamente ci sono tante altre categorie, per esempio la cura che è stata suggerita per il mondo, il modello Greta, per essere chiari, ha una chiara matrice ideologica, quindi è evidente che per esempio a fianco del giornalista che fa il suo lavoro c'è anche l'attivista, cioè c'è il giornalista che ha sempre visto il suo lavoro da una prospettiva di militanza, ovviamente ora riconosce in questa nuova sfida alcune delle parole chiave della sua visione ideologica del mondo e ovviamente si allinea, d'accordo? Poi c'è ovviamente il portatore di interesse, perché è ovvio che c'è anche quello. Se io dicessi che negli anni Ottanta c'erano dei giornalisti che venivano pagati da Big Tobacco per rilanciare certe news, tutti direbbero beh ma è un'ovvietà, se io dicessi che negli anni Ottanta c'erano dei giornalisti al soldo dell'NRA per difendere l'interesse della lobby delle armi e gli USA, nessuno li stupirebbe. Se io dicessi che nel 2000 c'erano dei giornalisti che prendevano soldi dal, non lo so, dai centri studi di Big Oil o Big Oil, è ovvio che tutti mi direbbero beh sì, è chiaro. Poi però appena dici ok, ci sono anche i giornalisti che prendono soldi da Tesla, per esempio, e fai notare che ormai Tesla è quotata, ora non so, non ricordo nell'ultimo mese, ma insomma tra due o tre volte la più grande oil company al mondo, d'accordo, diventa abbastanza chiaro, soprattutto è un business che si basa molto sull'informazione, sul sentiment, cioè ci crediamo che Tesla diventerà la più grande, se ci crediamo andiamo buy sulle azioni Tesla, se non ci crediamo andiamo short perché è chiaramente una bolla, quindi Tesla vive di quello che la gente pensa sul futuro di Tesla, è poco credibile immaginare che Tesla non faccia l'hobbing, sono sicuro che tra quelli che ci seguono qualcuno che sa quant'è potata Tesla, c'è sicuramente. Allora io so che Tesla in borsa vale molto più delle auto che vende, cioè Tesla dovrebbe aumentare di 6.000 volte la quantità di auto che vende per pareggiare quello che è il suo valore in borsa. Chiaramente questo non significa che il valore in borsa di Tesla sia sopravvalutato, sia per forza una bolla, perché chi investe su Tesla investe anche su un'azienda che crea dei brevetti, crea delle tecnologie che si spera possano portare a dei risultati indipendentemente dal numero di auto vendute. Però ecco, la prossima domanda verte proprio su questo. Abbiamo citato Tesla, tu in generale spesso su Twitter usi l'espressione Big Renewables riferito alle lobby del settore delle rinnovabili, che invece tipicamente vengono ritenute dal pubblico delle fonti di energia popolari, diciamo che non fanno parte di quel circuito di grandi lobby come possono essere quelle dei combustibili fossili o anche quelle del nucleare. Questo perché si confonde, secondo me, la potenza degli impianti installati con la quantità di soldi che magari sono piccoli sui tetti delle case delle persone, allora dietro non c'è una lobby. Cosa intendi quando parli di Big Renewables? Allora, prima di tutto, solo un dato così per... Noi nel 2020 abbiamo letto, anche se non ricordo male il 2019, però potrei sbagliarmi, nel 2020 sono sicuro, che gli investimenti in energie rinnovabili hanno superato gli investimenti in energia fossile. Ci siamo sentiti ripetere che la misura di quanta attività di lobbying faceva Big Oil erano gli investimenti nell'oil and gas. Ora mi spiegate perché non vale la stessa riflessione speculare per le rinnovabili? Cioè io vedo che su questo argomento c'è una sospensione della ragione. Dietro a tutte le industrie energetiche ci sono degli interessi e tutti gli interessi tendono a conglomerarsi in lobby. Questa è una banalità del mercato. Qui in Italia lobby è una parolaccia. Negli Stati Uniti le lobby hanno degli uffici nel palazzo del congresso. Perché viene considerata una cosa ovvia e scontata che dove esistono degli interessi, quegli interessi abbiamo diritto di parlare direttamente con le istituzioni. E poi ovviamente dato che ce ne sono tanti di interessi diversi, molto spesso in conflitto tra di loro, le istituzioni, il gioco non è semplice come si vuole far credere. C'è una lobby potente e quindi le istituzioni obbediscono. Sì, ma anche dall'altra parte c'è sempre una lobby potente. Quando noi ce la prendiamo con l'alimentazione chimica, ma anche la lobby biologica e biodinamica sta diventando sempre più grande. Lo stesso vale per l'auto tradizionale, ma anche per l'auto elettrica. Questo discorso noi dovremmo avere il buon gusto di capire che funziona in tutte le direzioni. Perché è importante sottolinearlo? Perché se voi ci fate caso, chi dice guardate che le rinnovabili, o meglio no, perché poi qui si va a fine un discorso ideologico che non ha senso, ma il modello 100% rinnovabili è una pazzia. Chi dice questa cosa qui non cita mai il problema di Big Renewable. Perché lo fa da una prospettiva razionalista basata sui dati e paradossalmente da una prospettiva razionalista è anche implicita questa cosa qui. Chi tira fuori sempre questa cosa dell'attività di lobbying è chi invece propugna il modello 100% rinnovabili. Per poter dire che ogni critica che riceve o è pagata da Big Oil o è pagata da Big Nuke. D'accordo? Cioè questo è il punto per il quale bisogna sottolinearla. Perché questo genere di accusa è sempre monoverso. D'accordo? E' sempre da parte di chi vuole difendere un modello che non sta in piedi sui dati. Cioè non sta in piedi, non per come la vedo io, come la vedete voi. Non sta in piedi, perché se ci mettiamo intorno a un tavolo a fare i calcoli, non sta in piedi. Fermiamoci un pochino su questo, Enrico, perché noi abbiamo parlato del tuo articolo che citava proprio il famoso articolo 100% rinnovabile di Jakobson. Se tu dovessi spiegare, diciamo, nel modo più semplice, però rigoroso possibile, senza cadere per l'appunto in frasi idiote o, diciamo, prive di senso fisico, come faresti a spiegare a una persona che non si intende di energia, che non si intende di rinnovabili, che non si intende di finanze energetiche, eccetera, che per l'appunto è una follia pensare di poter realizzare il 100% rinnovabile, se non altro nell'arco dei prossimi decenni, entro il prossimo 2050, come si sente ripetere di continuo. Lo so, lo so. Non è notevole, nel senso che ci sono tantissime cose da dire. Allora, partiamo dalle considerazioni meno tecniche, più facilmente divulgabili. Allora, prima di tutto c'è un'enorme sottostima della quantità di materiali di cui abbiamo bisogno per fare questa roba. Perché? Perché sostanzialmente fino a ieri ci si è concentrati solamente su quelle che si definivano i materiali critici, i materiali strategici, cioè quelli più rari. Avrete sentito parlare centinaia di volte delle terre rare, per esempio, no? Per i magneti permanenti, degli impianti eolici, per le batterie. Poi si è iniziato a parlare di Indio, perché pare che dagli Stati Uniti arriverà una nuova generazione di pannelli a film sottile. Cioè, una nuova generazione, in realtà è una tecnologia che esiste da vent'anni, però non hanno ancora deciso di scommetterci forte. Però si inizia a stimare che quella nel medio-lungo periodo avrà una grossa espansione, eccetera, eccetera. Ma quello che non è stato calcolato, che cos'è? Uno, l'impiego di materiali non strategici, come per esempio il rame, l'alluminio, l'acciaio, il calcestruzzo. Una pala eolica, d'accordo? Poi tenete presente che ora le pale eoliche hanno un'apertura di 300 metri, quindi parliamo di infrastrutture enormi, d'accordo? Ormai si fanno pale, il record mondiale è 15 megawatt, una pala da 15 megawatt, parliamo di una struttura enorme. Sapevo 14, l'allia di unico. No, è stata, se non ricordo male, forse Siemens Gamesa, però non sono sicuro, ne ha brevettata una, due, tre settimane fa, ma addirittura forse è da 16 o 16 e mezzo. Sono tre campi da calcio che ruotano. Ma è una roba, sono strutture gigantesche, che quindi hanno bisogno di tutti questi materiali. Ora, questo è un problema da un punto di vista strategico, perché? Perché anche sul fronte dei materiali non critici non è che non abbiamo difficoltà di approvvigionamento. Facciamo un esempio banale che è il rame, ok? Di rame sulla Terra ce n'è ancora tantissimo da tirare fuori, d'accordo? Parlo della crosta, quindi senza quei piani folli di andarlo a cercare nel mantello, amenità che vanno a finire sulle riviste scientifiche che io ancora non ho capito perché ci vanno a finire, comunque. Se noi andiamo a vedere di rame sulla crosta terrestre, ce n'è tantissimo, il problema qual è? Sono le concentrazioni. Quello in gergo si chiama il tenore. A inizio Novecento noi andavamo a sfruttare dei giacimenti di rame in cui il rame era presente in una percentuale tra il 5 e il 10%, ok? Quindi tiravamo fuori 20 tonnellate di materiali e una tonnellata era rame, ok? Oggi noi sfruttiamo giacimenti con un tenore dello 0,6%, d'accordo? Le compagnie minerarie ci dicono che si può scendere ancora sotto di un paio di punti di 0,1. Poi da quel punto in poi è praticamente impossibile estrarre economicamente rame, d'accordo? È evidente che noi siamo in un momento in cui dovremmo razionalizzare, proprio sulla scia della crisi climatica e ambientale che stiamo vivendo, dovremmo razionalizzare il consumo di risorse naturali. In realtà il modello 100% rinnovabili prevede un enorme aumento del prelievo di risorse naturali. E questo è un punto oscuro di questa strategia che difficilmente viene comunicato. Poi, rimanendo sempre in alto, senza scendere in basso ancora, in alto c'è il problema del ritorno energetico sull'investimento energetico, che è un tema tecnico che però in realtà è facilmente comprensibile. Allora, voi immaginate che per tirare fuori una tonnellata di carbone, ma in realtà questo vi renderà felici la risorsa che ha il maggiore ritorno energetico sull'investimento è ovviamente il nucleare, ma comunque è più semplice sul carbone, per quello lo faccio sul carbone. Per tirare fuori una tonnellata di carbone che cosa serve? Semplifico, ovviamente. Qualche scavatore, qualche camion, qualche decina, centinaia di litri di benzina, d'accordo? E poi noi abbiamo questa tonnellata di carbone. La bruciamo e ci facciamo una grossa quantità di elettricità. Quindi, rispetto all'energia che abbiamo investito per produrre quel carbone, il ritorno si misura tra 40 e 80 volte. Cioè, otteniamo tra 40 e 80 volte quell'energia che abbiamo speso per estrarre quel carbone, ok? Nelle rinnovabili non funziona mica così perché non sono risorse che noi andiamo a tirare fuori dal suolo e quindi sì, per quanto sia complicato, bene o male, non è che i costi energetici siano così elevati. No, parliamo di infrastrutture. Quindi che vuol dire? Dobbiamo produrre il calcestruzzo, dobbiamo produrre l'acciaio, dobbiamo produrre l'alluminio, dobbiamo produrre il silicio. Poi li dobbiamo lavorare. Anche qui una chicca sulle riste scientifiche quando voi trovate qual è il costo energetico di un pannello o trovate, come fa il Fraunhofer Institute, semplicemente il costo energetico del silicio. Cioè, meno dell'1% della massa del pannello, loro calcolano solo quello. Oppure trovate il costo energetico dei materiali grezzi, ma il pannello non è che è fatto da lingottini di alluminio, ingot di alluminio, d'accordo? È fatto da laminati di alluminio. Quindi che vuol dire? Fai l'alluminio, poi lo devi lavorare. Tutto questo avviene nello stesso paese, ma neanche per sogno. L'alluminio viene fatto, non so, in Brasile, in Australia, poi viene caricato sulle navi, la prima lavorazione la fanno in India, la seconda in Cina, poi è finito il pannello, lo caricano di nuovo sulle mani, le navi e lo mandano in Europa. D'accordo? Tutti questi input energetici fanno sì che poi, alla fine dei trent'anni, il pannello solare ha prodotto due, tre volte l'energia che abbiamo usato per costruirla. Questo, tra l'altro, dove il pannello funziona bene. Perché già se parliamo in zone medie insolazione, rischiamo di andare uno a uno. Sì, tra l'altro, a questo si aggiunge il fatto che, leggevo ieri su un articolo, i pannelli solari, ora come ora, stanno durando molto meno di quello che dovrebbero, non perché si deteriorino prima del previsto, ma perché il mercato è talmente drogato di incentivi che invece di mettere pannelli sulle case dove ancora magari non ci sono, chi ha già il pannello solare lo sostituisce con uno più nuovo e quindi quel pannello vecchio che viene sostituito effettivamente ha dato un errore ai minore di uno. Sì, e questo, se non sbaglio, è una delle tante distorsioni del mercato energetico. Se non sbaglio, fai riferimento a un articolo dell'Harvard Business Review, se non ricordo male. Esattamente. Ma è una pazzia, è una pazzia. Poi voi tenete anche presente che appunto ora stiamo parlando di argomenti alti. Se scendiamo in basso, c'è il famosissimo problema del fatto che queste famose energie rinnovabili hanno questo benedetto problema dell'intermittenza. E su questo penso che, insomma, ci siamo consumati la lingua a dirlo, ridirlo. Eh, ma non basta. Continuiamo a ripetere, ma evidentemente... Allora, l'intermittenza vuol dire che producono quando gli pare. D'accordo? Cioè, quando c'è vento, la paleolica produce. Quando c'è sole, il pannello produce. Il problema è che il consumo non funziona così. Il consumo segue delle curve più o meno standard a seconda della stagionalità. E questo non c'è dietro nessun complotto di big oil. C'è semplicemente che in inverno, quando stai a casa, accendi i riscaldamenti e in estate, quando fa molto caldo, accendi i condizionatori. E lo fanno tutti. D'accordo? Non è una cosa che ognuno... Io accendo alle 4, tu accendi alle 6, quell'altro alle 2 del mattino. No! Il caldo arriva per tutti, tutto insieme, e tutti accendono i condizionatori nello stesso momento. A quel punto, il sistema energetico deve essere pronto a erogare l'energia che serve ad alimentare tutti questi condizionatori. E non è che possiamo aspettare che arrivi il sole o arrivi il vento. Per quello, quindi, ora è nata questa nuova cosa delle batterie. D'accordo? Per rendere razionale il modello 100% rinnovabile, ora ci hanno tirato dentro la questione. Aspetta, ora ci arriviamo alle batterie, ma prima ti volevo chiedere, qualcuno potrebbe, qualche divulgatore famoso potrebbe dirti, basta non accendere i condizionatori, consumiamo meno, cambiamo stile di vita, cambiamo società, e quindi a quel punto risolviamo il problema. Io ora non voglio echeggiare battute infelici. Non l'ho fatto noi, non l'ho fatto noi. No, no, io non voglio echeggiare battute infelici, perché magari forse non ho capito nulla di come funziona il mondo, però mi verrebbe a dirgli che si candidi e vediamo quanti voti prende. Cioè, dicendo alla popolazione, allora, guardate, per i prossimi trent'anni facciamo che non usate più gli elettrodomestici, non usate più la macchina. Io non credo che questa sia una prospettiva credibile dal punto di vista politico ed elettorale. Poi ci sarebbe anche da dire un'altra cosa. Chi di solito propugna queste idee qui è over 50, over 60, quindi che vuol dire si è fatto la sua vita in un mondo in cui poteva consumare tutta l'energia che voleva. D'accordo? Il fatto che vada a imporre alle generazioni successive di consumare meno energia perché lui e i suoi diciamo come si dice partenti alla stessa generazione vabbè lui e i suoi coetani hanno consumato troppa energia. Beh, per me è uno strappo dal punto di vista della morale importante. Cioè tu con quale autorità morale vai a dire agli altri di consumare di meno quando tu nella tua vita hai consumato l'inverosimile? È un po' lo stesso discorso che facciamo con i paesi occidentali che industrializzati che dovrebbero andare a dire i paesi in via di sviluppo non utilizzati combustibili fossili quando noi li abbiamo utilizzati per l'ultimo secolo e passa. Ma assolutamente è quello il problema. noi non ci rendiamo conto che questo è un problema ipercomplesso ed è ipercomplesso nel senso che è complesso su più piani. D'accordo? È complesso da un punto di vista funzionale perché un tema che ancora abbiamo affrontato è che poi comunque tutto questo sforzo nel migliore dei casi ci servirebbe a rallentare un fenomeno ma di certo non è che se noi viriamo verso il 100% rinnovabili finisce il climate change cioè oramai questa è un'evidenza scientifica ampiamente suffragata e quello che fa strano è che vent'anni fa erano proprio gli ambientalisti che ripetevano guardate che il climate change arriverà a un punto i famosi tipping points non so se ne hai identico ma se ne parlava continuamente ne abbiamo parlato anche ah ecco e allora i tipping points erano un grande argomento forte dell'ambientalismo quante volte avete sentito parlare del permafrost ok ora fateci caso non si sente più parlare del permafrost perché perché ha iniziato a sciogliersi dimostrando che le rinnovabili oramai servono più a poco perché se si mette anche la natura ad emettere d'accordo per causa nostra ma non è questo il punto cioè se si avverano quei tipping points che la scienza climatica ha previsto negli scorsi decenni e che le evidenze scientifiche avrete visto l'ennesimo paper qualche giorno settimana fa che denuncia il fatto che l'Amazonia ormai non è più un carbon sink cioè non assorbe più CO2 ma la emette beh quello è l'ennesimo paper sono dieci anni che le ricerche sul campo mostrano che le foreste tropicali stanno diventando degli emettitori netti perché piove di meno a quelle latitudini e si stanno seccando d'accordo le rinnovabili avevano un senso per evitare che succedesse questa cosa qui ammesso che poi industrialmente funzioni non è quello il punto facciamo finta che funzionano dal punto di vista funzionale servivano a non arrivare qui ci siamo già arrivati è una mancanza di elasticità mentale cioè dire ok ora abbiamo bisogno di nuovi strumenti il primo step l'abbiamo saltato ormai con quella quell'armamentario lì non ci facciamo più niente quindi ci serve altro per quello tra l'altro secondo me il grande non detto è che ci servirà molta più energia è quello il punto cioè se questa roba non si ferma e quindi inizia a diventare stiamo vedendo con gli effetti meteo estremi ma più genericamente appunto se il permafrost si inizia a sciogliere è una catastrofe senza pari rispetto a quello che abbiamo visto sinora nel senso che parliamo del 25% delle terre emerse sono dimensioni spaventose d'accordo ci servirà più energia io ho proposto oggi in un articolo quella che viene guardata soprattutto dagli Stati Uniti come una tecnologia sempre più interessante che è la rimozione diretta della CO2 in atmosfera che in realtà per ora è l'unico approccio che noi abbiamo per attaccare direttamente la questione ma che in realtà può essere declinato a seconda di diverse tecnologie ci sono i fotobioreattori io ne ho parlato solo di una perché è quella che conosco meglio però ce ne sono tante di opzioni tecnologiche ecco parliamo proprio di questa che se non sbaglio per il punto di ci venire parlato oggi nel tuo articolo che io come ti ho detto prima volevo fare un piccolo preambolo a questo e cioè noi nelle nostre fake you sulla pagina facebook abbiamo risposto alla domanda perché non si può pensare di contrastare il cambiamento climatico riducendo i consumi di energia e le motivazioni sono principalmente tre il primo è che oggi noi dipendiamo dai combustibili fossili per l'81% della nostra energia quindi ridurre i nostri consumi non vorrebbe dire ok prendo la bicicletta invece che andare in macchina o tengo il condizionatore a due gradi in più cioè vuol dire completamente rivoluzionare lo stile di vita tornare all'ottocento cioè non avere gli ospedali che funzionano di notte cioè parliamo di questo poi il secondo motivo è quello che diceva prima Fulvio e cioè che ci sono dei paesi in via di sviluppo la cui domanda energetica è in crescita e ai quali non abbiamo nessun diritto di andare a dire no voi dovete fermarvi qua perché abbiamo già consumato tutto il consumabile terzo esattamente quello di cui stiamo per parlare adesso cioè in uno scenario di emissioni negative che sono quelle che servono per contrastare il cambiamento climatico perché la CO2 non scalda l'atmosfera la CO2 è una valvola che dice quanto calore solare entra o esce dall'atmosfera finché la valvola è troppo aperta continuerà a entrare più calore di quello che esce se anche noi smettiamo di aprirla quindi diciamo fermiamo le emissioni azzeriamo le emissioni arriviamo al net zero domani continua a filtrare più calore e la CO2 rimane concentrata in atmosfera per mi sembra 70 o 80 anni quindi se noi arrivassimo al net zero oggi le temperature continuerebbero aumentare almeno fino al 2100 e per cui l'unica soluzione è quella di andare a emissioni negative ma qua interviene il secondo principio della termodinamica e cioè che tu per catturare sta CO2 dall'atmosfera devi spendere più energia di quella che hai usato di quella che hai ottenuto immettendo la CO2 in atmosfera quindi bruciando carbone e combustibili fossili il che significa che siccome noi di CO2 in atmosfera ne abbiamo immessi mi sembra due trilioni di tonnellate l'energia che ci serve per scatturare e sequestrare quella CO2 atmosferica è superiore a quella che avremmo ottenuto da due trilioni di tonnellate di petrolio e quindi le dimensioni del proprio cioè la quantità di energia che ci serve è spaventosa e i consumi di energia se vogliamo risolvere il problema dovranno aumentare quindi su questo io ti dico una cosa che secondo me il grande diciamo non viene diciamo valorizzato quanto dovrebbe essere valorizzato io quello che vedo è per il futuro uno spacchettamento di soluzioni micro e macro cioè che vuol dire le soluzioni micro sono cerchiamo di efficientare quello che abbiamo quindi tramite territori tramite un'allocazione più razionale delle fonti energetiche d'accordo quindi il carico di base a fonti energetiche che siano adatte al carico di base il carico di picco a fonti energetiche che siano adatte al carico di picco eccetera eccetera per quello per esempio se no me la mobilità elettrica non funziona bene perché va a scaricare sulla rete elettrica che ha appunto dei pattern prevedibili un consumo di energia che diventa imprevedibile perché a seconda di chi si attacca quando si attacca insomma dovremmo iniziare prima di tutto a razionalizzare il nostro sistema energetico ma poi secondo me la soluzione verrà dalla fusione perdonatemi questa questa parola che può sembrare in questo caso dalla fusione tra l'industria nucleare e l'industria dei fossili perché se voi vi andate a vedere il processo attualmente più diffuso per la cattura diretta della CO2 che è quello elaborato da Carbon Engineering stiamo parlando di una roba su cui Microsoft sta investendo big money per diventare carbon negative entro il 2030 insomma una roba molto seria made in Harvard quindi se voi vedete il fabbisogno energetico di quel processo per catturare una tonnellata di CO2 cadete dalla sedia perché perché per per mandare net zero l'Italia d'accordo avremmo che emette più di 400 milioni di tonnellate di CO2 l'anno avremmo bisogno di 40 gigawatt di nucleare d'accordo 40 gigawatt di nucleare calcoli alla mano sulla base del fabbisogno energetico di un processo industriale revisionato dall'Accademia delle Scienze Americana quindi non è che stiamo parlando di roba fantascientifica dici che c'entra l'industria dei fossili c'entra perché quando poi tu vai a tirare giù il carbonio dall'atmosfera che ci fai allora ora nel breve lo stocchi sotto nel diciamo nel breve periodo lo stocchi sotto terra lo stocchi sotto terra vuol dire che lo usi per estrarre petrolio e gas tradotto anche se questo forse non è molto noto si spara la CO2 compressa nei depositi di petrolio e gas per aumentare la produttività che sostanzialmente entra la CO2 e spinge fuori l'idrocarburo d'accordo ma nel medio lungo periodo quel carbonio verrà mixato con idrogeno e diventerà simfuel cioè combustibile sintetico quindi noi che cosa potremmo ottenere prima di tutto un vero e proprio sistema circolare d'accordo in cui sostanzialmente una volta che nel lungo periodo ovviamente siamo tornati a un livello di CO2 ottimale in atmosfera semplicemente la CO2 viene emessa e ricatturata per mantenerci a quel livello lì da questo ciclo noi otteniamo combustibile sintetico che voi mi direte vabbè ma che ci facciamo a questo punto stiamo parlando del lungo periodo secondo me la portabilità del combustibile liquido rimarrà un asset molto forte anche nel lungo periodo perché oggettivamente sono quelle cose lì che molto pratiche sta in poco spazio non so come si porta facilmente e quindi bene o male mantenremo fossile ma non sarebbe dire non sarebbe un reto dire fossile bisogna dire carbonico ok solo l'alimentazione dei trasporti e poco altro cioè dove oggettivamente fino a che non abbiamo batteria di nuova generazione il combustibile liquido non ha rivali ok e quindi secondo me il futuro è proprio la combinazione tra industria nucleare che può fornire un un'energia a a basso prezzo perché tra l'altro attenzione qui parliamo di energia termica quindi io vi ho detto 40 gigawatt di nucleare parlando di 40 gigawatt elettrici ok ma poi andrebbero a produrre il triplo in energia termica se non sbaglio qui poi reattori terza terza generazione avanzata sei sul triplo se vai sulla quarta generazione anche un po' meno nel senso che puoi avere rendimenti del 40 45 per cento ok comunque siamo lì più o meno l'oriente grande diciamo che stiamo parlando di 100 gigawatt termici che comunque non sono tantissimi perché un EPR da 1,6 gigawatt elettrici fa 4 gigawatt termici ma poi Luca se non sbaglio quando abbiamo fatto il nostro calcolo spannometrico di quanti reattori avrebbero bisogno di Italia c'è venuta fuori proprio una cifra del genere 40 noi avevamo fatto 25 gigawatt in quel caso perché non abbiamo contato la cattura ovviamente del sequestro della CO2 per cui avevamo fatto un calcolo che per coprire il carico di base italiano senza carbon capture and storage servirebbero 25 gigawatt che sono 13 reattori EPR di grande dimensione quindi 40 gigawatt sarebbero 25 PR circa però pensa qual è il grosso vantaggio che noi questi 40 reattori perché poi vedi uno deve essere realista fino in fondo io non ho nulla contro per esempio io personalmente non ho nulla contro l'energia nucleare a meno che poi non mi si diventa come il paradigma 100% rinnovabili cioè nel senso certo che non ho nulla ma non è che penso che come si pensava negli anni 60 o 70 che sarebbero esistite le auto nucleari il mulino che alimenterà bisogna sempre usare la testa esatto quindi comunque io non ho nulla contro il nucleare di contro ti dico che in Italia secondo me ci sono le fortissime dei grandissimi ostacoli e cioè se tu vedi che qui c'è difficoltà a costruire un biodigestatore insomma è evidente che qui c'è un problema di mentalità ma qual è il bello che noi potremmo tranquillamente fare una partnership con la Russia o il Kazakhstan o qualsiasi altro paese in cui installare nucleare non è un problema d'accordo e farci catturare la nostra quota di CO2 lì tramite una joint venture tra Enel Eni Russatom Gazprom non so come dire cioè è questo il bello della cattura diretta in atmosfera della CO2 che è uno strumento duttile d'accordo e che quindi si presta a una vera e propria strategia per quello io dico dividiamo macro e micro la cattura diretta della CO2 è la nostra risposta macro cioè quella che ci dà delle garanzie sul fatto che non lasceremo nei guai le prossime generazioni quello è il discorso cioè si dovrebbe prestare veramente a un grande una grande organizzazione internazionale che emette debito costruisce infrastrutture non nazionali in giro per il mondo per fixare il clima della terra nel medio lungo periodo poi ci sono le soluzioni micro e cioè dire comunque se rendiamo il percorso più corto non è che facciamo danno cioè se nel frattempo efficientando il nostro sistema energetico immaginando un sistema energetico più razionale eccetera 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 riusciamo a ridurre le emissioni soprattutto a ridurre l'intensità carbonica cioè vuol dire quanta CO2 mettiamo per un'unità di pil che è il vero problema il vero nocciolo va benissimo non è quello il discorso che in Spagna in Andalusia si installino pannelli solari quando c'hanno un'insolazione che è poco inferiore rispetto al Marocco all'Algeria io non ci trovo niente di strano se avete presente i film di Sergio Leone sembra di stare appunto nel deserto è Spagna d'accordo quindi che se lì mettono i pannelli che problema c'è se nel Mar Baltico mettono le pale eoliche neanche lì ho alcun problema ci sono 20 metri al fondale e poi hai una ventosità spaventosa è ovvio che sono condizioni ideali per l'energia eolica non è quello il punto il punto è che noi abbiamo bisogno di dare garanzie alle prossime generazioni e di certo non è con questa roba qui che gli diamo alcuna garanzia ma proprio nessuna per quello più volte l'ho definita una speculazione perché il motivo per cui stiamo costruendo tutta questa roba non c'entra nulla con quello che otterremo sì c'era c'era un articolo forse di Chico Testa della settimana scorsa che diceva che siamo passati dal non importa di che colore siano i gatti purché prendano i topi a non importa se i gatti prendono i topi purché siano gatti verdi dove ovviamente prendere i topi in questo caso vuol dire abbattere le emissioni allora per quanto riguarda quello che hai detto io sono in linea di massima d'accordo anche se comunque la percentuale di impianti rinnovabili va contenuta entro i limiti del capacity factor nel senso che se un impianto eolico cioè se in un paese hai una insolazione media che è del 25% ok non puoi già molto alta il 25% sì ma parliamo di Andalusia il punto è che anche in Andalusia siccome è difficile tu vada oltre il 25% non puoi installare oltre il 25% di pannelli solari perché altrimenti vai quando c'è il sole vai in sovrapproduzione rispetto al carico di base e quando non c'è il sole devi compensare e quindi devi compensare con una fonte flessibile che difficilmente può essere nucleare almeno con gli attuali business model e con gli attuali reattori a low enrichment per cui questo crea dei problemi di stabilità di rete allora guarda su questo è un argomento molto complicato perché dipende anche semplicemente dall'architettura di rete che tu vuoi mettere su e dipende anche dalle caratteristiche del paese per esempio un paio di mesi fa o il mese scorso il NREL americano quindi il National Renewable Energy Laboratory se non ricordo male l'acronimo insomma la principale organizzazione che studia l'implementazione e le caratteristiche delle rinnovabili ha pubblicato un report in cui dice fino al 50% più o meno di rinnovabili negli USA fino al percentuale del 50% di rinnovabili abbiamo dei benefici economici ok questo è possibile anche ma perché perché negli USA tu hai il deserto del Mojave per esempio e delle aree ventosissime come può essere il Golfo e il Messico ok quindi in un paese in cui tu hai le condizioni ideali per le rinnovabili d'accordo anche perché è un paese grande quindi ha anche le condizioni ideali per le rinnovabili è possibile questo possa arrivare fino a un 50% io credo che in un paese come il nostro difficilmente si possa superare il 30-40% senza contraccolpi economici dipende in Italia abbiamo poco vento abbiamo abbastanza sole tieni presente che in quel 50% nelle rinnovabili viene incluso l'idroelettrico anche le biomasse geotermico l'idroelettrico ha il grosso vantaggio di stabilizzare le altre due perché l'idroelettrico può stoccare l'eccesso energetico e fare da backup quando il vento e il sole non ci sono la Norvegia fa il 100% e loro hanno solo l'idroelettrico se tu consideri solare più eolico più idroelettrico arrivi tranquillamente al 50% anche di più in determinate condizioni geografiche sulla singola fonte quindi sul singolo solare sul singolo eolico non puoi cioè vai in perdita se superi più o meno il capacity factor che la regione geografica ti consente sì poi magari ci sono alcune tecnologie tipo il solare termodinamico con un po' di accumulo termico o cose del genere che ti possono permettere vedo che se ne parla sempre meno sì 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 però magari qualcosina da qualche parte ti possono dare però non ci si sposta molto da da quelle percentuali poi mettendo tutto insieme ma devo dire che è tutta una questione di misure è tutta una questione di misure calibrate sul paese di cui stiamo parlando tutto qui quindi non è che questo fervore che vedete per il quale tutto di un tipo tutto dell'altro è veramente qualcosa di totalmente irrazionale d'accordo perché non non è possibile immaginare sostanzialmente anzi vediamo quello che viene immaginato perché è molto chiaro la prossima domanda riguardava proprio quello quindi nel senso che prima prima ne abbiamo accennato non abbiamo parlato di batterie allora oggi viene immaginato un futuro dove lo stoccaggio energetico avviene o tramite le batterie o attraverso l'idrogeno in particolare la California sulla quale noi ne abbiamo detti di tutti i colori perché rappresenta un po' il modello globale del suicidio energetico adesso hanno anche proibito la vendita di un certo tipo di computer perché consumano troppo rispetto a quello che la California può permettersi allora sulla California ha appena appaltato la costruzione di un nuovo sistema di batterie che sarà il più potente al mondo e sarà da 3 gigawattora quindi siamo un ordine di grandezza in più rispetto ai 300 megawattora che erano mi sembra lo stabilimento di Orlat la Tesla Power come cavolo si chiama Power Factory Gigafactory ecco la Tesla Gigafactory in Australia Orsdale il costo previsto per la realizzazione di questo battery pack in California è di 9 miliardi di dollari allora se io devo fare un conto prendo il PNIEC italiano quello precedente del ministro Costa inviato all'Unione Europea per farci ridere dietro e leggo che l'Italia dovrebbe avere 30-40 gigawatt di batterie per un totale di 100 terawattora di stoccaggio annuale se devo fare il calcolo con i prezzi viene qualcosa come 200 mila miliardi di euro che fa ridere a dirla come cifra però magari i prezzi delle batterie caleranno però anche se calano di un fattore 100 mi dico di più infatti sai cos'è ora la soluzione che viene opposta alle batterie pensa a che livelli di pazzia siamo arrivati l'overcapacity tanto semplice quindi mi servono 20 gigawatt di fotovoltaico ne installo 60 a quel punto anche se produce poco ci sto dentro e lì la batteria mi serve piccola d'accordo però vi rendete conto mentre si parla di efficienza energetica in che contraddizioni ci andiamo a intrappolare è una roba senza senso poi pensate a quello che dicevamo prima i limiti ok avete sentito su questo siamo tutti d'accordo il tempo oltre che il clima anche il tempo sta cambiando e noi stiamo installando delle infrastrutture fisse per catturare il sole e il vento in un contesto in cui cambia la distribuzione del sole e si spostano le correnti se non voi pensate negli ultimi due anni alcuni degli impianti più grandi eolici nel baltico registrano una perdita di produttività del 10% perché tira meno vento in parte è quello che è successo anche quest'anno in Germania non so se è lo stesso fenomeno però lì poi c'è una variabilità stagionale ma in alcuni casi vengono individuati proprio dei pattern fissi cioè delle correnti che si stanno riorientando perché si scioglie quella massa fredda perché si riscalda quella massa d'acqua eccetera ci sono tanti motivi complessi pressioni atmosferiche eccetera ma sostanzialmente noi vediamo un meteo che cambia mentre installiamo un sistema energetico che si basa sul meteo a questo proposito volevo chiederti se voleri diciamo se nel tuo lavoro di analista hai fatto dei calcoli anche su diciamo la quantità di risorse eventualmente i costi e il rapporto costi benefici dello stoccaggio energetico tramite batterie e tramite idrogeno allora guarda ti faccio solo un esempio a seguito di un di un di un vecchio articolo no vecchio di uno degli ultimi articoli su Twitter mi hanno fatto notare che mi hanno detto ah vedi però in realtà questo problema e le risorse non c'è linkandomi un articolo del presidente dell'energy commission dell'energy transition commission UK se non ricordo male che è un enorme gruppo di pressione con dentro alcuni dei delegati dei più grandi gruppi industriali d'Europa che sta diciamo progettando uno scenario di decarbonizzazione aderente ai diciamo alle linee guida sviluppate da Bruxelles ok in questo articolo ripetiamo di questo se non ricordo male neanche questo parlamentare della camera dei lord inglese quindi parliamo di una persona anche con una certa esperienza istituzionale nel campo dell'energia eccetera eccetera questo personaggio diceva tra l'altro le stime sulla quantità di litio disponibile ci dicono che non c'è nessun problema dal punto di vista dell'approvvigionamento perché possiamo contare su 80 milioni di tonnellate di riserve a fronte di una domanda che non dovrebbe superare i 17 milioni di tonnellate d'accordo e metteva le fonti la fonte era lo US Geological Survive che sostanzialmente fa le stime per tutto il mondo ok ora qual è il punto e se voi andate a vedere le fonti che acclude uno che dovrebbe essere uno specialista perché sta influenzando la la policy climatica europea d'accordo viene fuori che 80 milioni di tonnellate di litio sono le risorse non le riserve che differenza c'è le risorse vuol dire che sono incluse la quota che non si può estrarre d'accordo quante sono invece le riserve cioè la quantità di litio estraibile disponibile 17 milioni di tonnellate secondo lo US Geological Survey cioè la fonte che cita lui a fronte di una domanda di 19 quindi se tu già oggi vai a vedere i dati scopri che non esiste abbastanza litio per i progetti che stiamo facendo e attenzione ciliegina sulla torta i 19 milioni di tonnellate prevedono solo il fabbisogno per la mobilità elettrica cioè non per lo stoccaggio destinato all'equilibrio della rete d'accordo cioè noi a questo livello di confusione stiamo progettando una cosa così grossa e complicata per quello molto spesso uno dice non vedo come possa andare a finire bene non perché manchi la tecnologia ma perché manca la competenza tutto qui e per quanto riguarda l'idrogeno invece io ti tieni presente che ti sto facendo queste domande a uso e consumo del nostro pubblico nel senso che tendenzialmente nella maggior parte dei casi conosco già le risposte anche se questo dato che mi hai dato adesso del litio era nuovo nel senso che avevo poi te lo giro l'articolo è inquietante io avevo letto il documento che diceva che abbiamo risorse di litio per la transizione energetica e mi ero detto wow abbiamo risorse di litio fino da qui al 2060 speriamo non aumentino i consumi e poi questi rompono ancora le palle dicendo che potremmo esaurire l'uranio non sanno nemmeno se c'è abbastanza litio per il loro piano e fanno come dire come al solito si guarda la pagliuzza nella trave nucleare la pagliuzza nell'occhio del nucleare e non la trave in culo di tutte le altre soluzioni scusate il francese i nostri ascoltatori sono abituati e no però l'idrogeno c'è un problema speculare costa un sacco di soldi e soprattutto è un vettore energetico quindi ho bisogno di energia per produrlo si ritorna sempre lì si ritorna sempre la solita storia volendo con l'idrogeno noi potremmo decarbonizzare istantaneamente tutto il settore di trasporti non c'è dubbio su questo il problema è quanto costerebbe fare questa roba qui è tutto lì il problema perché l'idrogeno è l'equivalente della benzina è un vettore energetico non lo trovi in natura così lo devi produrre quindi per produrlo devi spendere energia poi usare questa roba per accumulare energia tra l'altro in questo caso che vorrebbe dire accumulare energia che lo brucio quando mi serve energia quindi comunque lo devo produrre continuamente devo continuamente produrre idrogeno per avere le scorte piene nel caso in cui mi vanno giù le rinnovabili faccio partire le centrali a gas sostanzialmente con al posto del gas l'idrogeno ok perché anche lì ci sarebbero le fuel cell ma le fuel cell per il momento sono in una fase di ricerca e sviluppo hanno tutta una serie di problemi di ordine della sicurezza perché rischio incendi rischio insomma che siano che tutte queste opzioni persino le batterie persino l'idrogeno abbiano degli utilizzi di nicchia nel quadro di una transizione ecologica io non lo metto in discussione è possibile anche le soluzioni più astruse ce ne sono anche di molto più astruse di queste in realtà però il punto qual è appunto di nuovo torniamo al discorso di prima macro micro d'accordo questa roba non è il paracadute che ci eviterà di sbattere la testa su questo aumento costante e pericoloso della temperatura possono essere delle cose che aiutano se sono fatte col cervello d'accordo ma niente di più che poi ricordo che tra l'altro l'idrogeno ha un rendimento power to power cioè considerando da quando avevi energia elettrica a quando riavrai energia elettrica passando da tutti gli stadi intermedi che non è altissimo secondo poi dell'applicazione che gli fai fare dell'ordine del 30% giù di lì quindi di nuovo si ritorna il discorso di prima di quanto vogliamo ridurre i consumi utilizzando metodi che non sono efficienti e quindi ci richiedono quantità di energia ancora più grandi quando magari potremmo fare la stessa strada da AB consumando meno o sprecando meno riguardo a questo non so se Luca vuole aggiungere qualcosa se no direi possiamo passare al discorso del mercato energetico delle rinnovabili quanto è drogato più che altro volevo aggiungere a proposito dell'idrogeno e delle batterie un dato interessante e cioè che noi quando parliamo di nucleare riceviamo moltissimo molto spesso diciamo le perplessità della gente circa la sicurezza degli impianti nucleari e uno tende a non rendersi conto che per come sono fatte oggi le batterie una batteria ha un potenziale esplosivo notevole per non parlare dell'idrogeno questo fu qualche giorno fa no? una batteria sì ma per fortuna hanno limitato l'incendio a un singolo pack perché se prendeva fuoco tutta la gigafactory c'era da divertirsi allora se potessimo costruire una gigafactory in grado di alimentare l'intera città di Londra quindi di fare da storage per la città di Londra un'esplosione in quella gigafactory avrebbe la stessa potenza della bomba atomica di Hiroshima quindi sembrano molto belle le batterie prima o poi succederà un incidente e quel giorno non so quanto io non riderò perché riderò in silenzio ma perché non voglio essere sadico però secondo me ci sarà da divertirsi per non parlare dell'idrogeno soprattutto se poi continuiamo a mandarla a stoccare in Africa sai insomma esatto vedo un problema di sicurezza notevole se pensiamo di toccare l'equivalente di non lo so svariati teravattora in forma di idrogeno a livello di siccome l'idrogeno è estremamente volatile alla prima perdita che c'è fai un cratere grosso come la regione Puglia sì che poi per l'appunto diceva Enrico che ci sono queste mappe che che lì è proprio fante ingegneria che immaginano di produrre idrogeno nel nord Africa con solare in grandi quantità e inviarlo a nord Europa non si sa bene questo tubo dove di nuovo c'è un buco cioè lì proprio è fante ingegneria è più totale è una cosa che viene ripetuta ma lo sai che cosa ti rispondono quando gli dici guardate che non c'è abbastanza rame per per la transizione ecologica beh andremo a prenderlo nei satelliti near earth mi sembra una prospettiva proprio molto economica tra l'altro molto economica tra l'altro no io ripeto c'è la differenza tra l'idrogeno e il metano è che il metano a contatto con l'aria non prende fuoco devi scaldarlo devi dargli una scintilla l'idrogeno se viene a contatto con l'aria salta per aria fa proprio è quello che succede tra l'altro è il motivo per cui anche a Fukushima l'incidente nucleare a Fukushima ci sono state le esplosioni di idrogeno perché quando il reattore raggiunge i 1200 gradi l'acqua va in pirolisi che viene catalizzata dallo zircalo e lo zircalo si lega all'ossigeno l'idrogeno se ne va per conto suo e appena tocca l'aria fa boom e quindi devono installare tutte le centrali adesso si installano i ricombinatori di idrogeno proprio per evitare cioè proprio per catalizzare questa reazione prima che avvenga spontaneamente in maniera esplosiva se tu fai un deposito di idrogeno è una roba pericolosa cioè può saltare per aria alla prima perdita no no assolutamente è uguale per le batterie perché in realtà ora se tu pensi che si pensa di smaltire anche di nuovo le batterie in Africa ok quindi che cosa andiamo a fare queste gigantesche catastre di batterie in Africa il fatto che prima o poi prenderanno fuoco e faranno un incendio che lo vedi non voglio dire occhio nudo dalla Sicilia ma quasi insomma sì tra l'altro anche quello poi ci accusano che con il nucleare andremo a smaltire le scorie radioattive in Africa ecco non è vero perché per normativa europea tutti i paesi anzi per normativa internazionale tutti i paesi si devono gestire le loro scorie da soli in compenso è vero che le batterie e anche probabilmente i pannelli solari esausti e le turbine oliche esauste finiranno magari in posti del genere come già succede per altre tecnologie per esempio i motori delle vecchie navi a nafta che vengono smaltiti clandestinamente sulle coste del Bangladesh ad ogni modo passiamo pure al prossimo argomento aspetta volevo dire prima che come ha detto Enrico non è che siamo contro l'idrogeno non è che siamo contro le batterie è il solito discorso vanno utilizzate e vanno utilizzate in un modo razionale prima leggevo nei commenti ma avrebbe senso utilizzare l'idrogeno se si applicasse su vasta scala il nucleare dico perché no perché no magari utilizzando reattori di quarta generazione ad alta temperatura che producono utilizzando il calore di scarto idrogeno da utilizzare in settori difficili da decarbonizzare come alcuni settori industriali il trasporto pesante in piccole nicchie potrebbe avere senso potrebbe essere una vada poi bisogna fare i calcoli nel dettaglio però noi quello che diciamo è che non ha senso pensare di far andare avanti tutto il mondo alimentandolo con un piano 100% rinnovabile misto a idrogeno misto a batterie o cose del genere ma poi pensate che ora come ora l'idrogeno viene suggerito come sostituto del carbone per fare acciaio o per fare cemento è una pazzia perché appunto vorrebbe dire sostituire la fonte energetica più economica esistente c'è il carbone termico semplicemente che lo butti in una fornace per fare calore con la benzina anzi prendiamo il caso di una benzina verde super senza piombo l'equivalente di d'accordo immaginate quanto viene a costare l'acciaio che esce fuori dall'acciaieria sì sì assolutamente d'accordo e a questo punto ora ti ti chiedo ti faccio la domanda di passare al prossimo argomento riguardo al mercato dell'energia perché sulla nostra pagina vengono continuamente a ripeterci che le rinnovabili sono sempre più convenienti il nucleare non è conveniente è un mercato dell'energia libero e quando diciamo non è esattamente così però per l'appunto se qualcuno venisse a farti queste affermazioni cosa gli risponderesti sempre con quella logica di semplificare ma non troppo gli risponderei di andarsi a vedere quali sono oggi le quotazioni all'ingrosso dell'elettricità sui principali mercati europei noi escludiamo il 2020 ovviamente perché insomma il covid lo dico a mio spavore perché mi piacerebbe molto citare come raffronto i dati del 2020 però per correttezza non li citiamo perché ovviamente il covid ha depresso il mercato energetico i prezzi sono andati molto in basso ma sostanzialmente nel 2019 pre-covid in questo periodo dell'anno il prezzo dell'elettricità nei principali mercati europei oscillava tra 40 e 60 euro al megawatt megawattora d'accordo? oggi nell'ultimo mese il prezzo dell'elettricità nei principali mercati europei escluso Nord Pool che segue una dinamica tutta a sé da sempre che è quello nordico insomma vabbè perché è interconnesso tra i paesi quindi riescono a utilizzare poca capacità di picco perché l'Inghilterra è interconnessa alla Norvegia insomma è un discorso complicato sfruttano i bacini idrici norvegesi per stabilizzare i consumi e il rapporto tra consumi e domanda sostanzialmente oggi noi abbiamo invece un prezzo che uscilla tra i 70 e i 120 euro al megawattora d'accordo? abbiamo un raddoppio secco del prezzo dell'elettricità all'ingrosso perché? per due motivi il primo motivo è la carbon tax o meglio l'ATS cioè il sistema di crediti di carbonio europei il mercato di crediti di carbonio europei bene la CO2 arriva da una quotazione più di 60 euro al megawattora che vuol dire che sul prezzo di una centrale a gas vuol dire scusate di 60 euro alla tonnellata ovviamente questo vuol dire che per quello che riguarda una centrale a gas che quindi produce mediamente una tonnellata di CO2 ogni 2-3 megawattora si traduce in 20-30 euro in più al megawattora ora voi mi direte eh ma questo che c'entra con le rinnovabili è no quello schema lì è stato introdotto per far stare sul mercato le rinnovabili d'accordo e questo è il punto delle rinnovabili si calcola semplicemente il costo all'uscita dell'impianto ma non funziona così purtroppo ci sono il grosso dei costi delle rinnovabili sono i costi di integrazione il primo costo di integrazione è farli competere con i fossili perché senza costo del carbonio questa competizione non può esistere d'accordo il gas starebbe a 30 euro al megawattora e le rinnovabili non se ne parlerebbe neanche di fare perché ci sono un po' anche quei liberali non so come definirli che dicono facciamo competere tutti alla pari e vediamo chi vince eh vince il carbone vince andiamo avanti a carbone a carbone in Italia può essere anche a gas perché insomma noi abbiamo i buoni contratti di fornitura sul gas ma insomma vincono i fossili ma a mani basse vincono i fossili come hanno vinto finora del resto appunto c'è un motivo se la transizione è tanto difficile d'accordo è perché è costosa se no l'avevamo già fatta 30 anni fa discorso a parte non lo dico per sincerità per operazione simpatia nei vostri confronti discorso a parte bisognerebbe farlo sul nucleare cioè che vuol dire quelli che sono i dati che vengono per esempio dalla Corea del Sud ok dimostrano che se tu un sistema lo fai andare tutto a nucleare ok cioè lo imperni tutto a nucleare non si può fare però lo imperni intorno all'energia nucleare i costi diminuiscono molto è ovvio che se il nucleare è una delle tante componenti del sono le economie di scala insomma sto dicendo anche una banalità se è una delle tante componenti del sistema energetico il 10 il 15% del fabbisogno chiaramente i prezzi aumentano quindi il nucleare forse in un sistema che massimizzi l'impiego di energia nucleare potrebbe anche competere sul baseload con i fossili senza nessun tipo di incentivazione o disincentivazione le rinnovabili no quindi il primo incentivo che gli abbiamo dovuto dare è abbassare la competitività dei fossili però anche quello si traduce in un costo in bolletta quindi prima di tutto mettiamoci quello come costo poi mettiamoci come ha sottolineato la corte dei conti tedesca quindi insomma una fonte istituzionale quelli che sono i costi di adeguamento della rete che possono sembrare spiccioli ma nei prossimi dieci anni la Germania spenderà cento miliardi di euro per potenziare la sua rete elettrica e questo servirà per spostare il term da termico a elettrico cioè in prospettiva quando saremo net zero vuol dire che tutta l'energia che passa per le tubature del gas passerà per filo elettrico che sia chiara questa cosa qui quindi vuol dire costruire linee ad alta tensione da tutte le parti va bene ed ha un costo notevole questa roba qui poi c'è un altro tipo di costo ancora più nascosto e cioè dato che quella delle batterie è solo una chiacchiera ok nel senso che nella pratica nessuno crede di installare gigawatt di batterie in Italia ma che siamo pazzi e allora come si fa si va bene ho detto nella pratica allora come si fa beh semplice ci sono le centrali a gas una centrale a gas ha questo grande vantaggio che in centottanta secondi sta producendo elettricità premi il pulsante start centottanta secondi è online e produce e quindi per i picchi va bene va bene però una centrale a gas non può funzionare cinquecento mille ore l'anno perché il produttore ci va in perdita ovviamente anche perché lui deve tenere lì il personale pronto ad accendere la centrale quando dalla rete gli arriva la richiesta e allora che facciamo allora le paghiamo per stare spente anche questo andrebbe spiegato all'opinione pubblica noi stiamo pagando un sacco di centrali a gas per stare ferme spente per nove decimi dell'anno funzionano un decimo dell'anno d'accordo ma ci costano quel decimo dell'anno se volessimo fare il costo al megawattora ci sono ovviamente i dati di una centrale di picco a gas parliamo di 3, 4, 500 dollari al megawattora sempre meglio pagare quelle a gas per stare spente che pagare quelle a carbone per stare accese senza produrre elettricità come fanno in Germania perché in Germania tu saprai che all'inizio di quest'anno sei impianti sono stati dichiarati system critical e quindi devono stare costantemente accesi con la turbina in rotazione ma il carico staccato perché a differenza delle centrali a gas quelle a carbone impiegano 24 ore accendersi quindi se c'è un calo di produzione da rinnovabili devono poter collegare il carico subito tu capisci però queste cose fanno veramente rabbia perché qui siamo oltre la stupidità e non è questo che la Germania sta per per completare Gazprom 2 cioè Nord Stream 2 ma avete visto negli ultimi sei mesi la Germania ha dichiarato un consumo di carbone che è più 40% rispetto all'anno precedente cioè ci vengono a parlare ma ancora peggio più 36% l'inite che proprio se il carbone è la merda la l'inite è la merda liquida cioè lo schifo proprio dal punto di vista delle emissioni ma il carbone è peggiore che esista sì nel senso che la l'inite oltre a produrre una quantità vergognosa di CO2 per megawattora produce anche tantissimi inquinanti composti solfati composti azotati monosido di carbonio cioè è mortale la quantità di persone uccise dalla l'inite per megawattora è la più alta è il doppio persino rispetto al carbone se parliamo proprio di morti per centinaio di terawattora sì sì assolutamente ma infatti è questo il discorso ripeto questi aspetti fanno rabbia perché sai fino a che si parla delle bollette io poi da questo punto di vista sono anche abbastanza distaccato nel senso comunque la gente ancora ha il diritto di voto quindi se lo vuoi capire lo capisci e ti comporti di conseguenza le prossime elezioni se ti piace pagare le bollette salate vabbè allora si vede che in Germania amano avere le bollette salate eh no perché se tu vai a vedere c'è un fronte che è sempre più ampio di protesta il rapporto che ti citavo prima della Corte dei Conti Tedesco della Corte dei Conti Tedesco era interessante perché diceva perché è importante sottolineare che ci sono questi costi addizionali perché se non lo spieghiamo all'opinione pubblica e se non li convinciamo sarà il motivo per il quale naufragherà la transizione ecologica perché questi a un certo punto vedranno le bollette aumentare così tanto che diranno ok mi state prendendo in giro mi state fregando ma non pensi che ci sarà prima un contraccolpo forte per esempio sull'industria che non può fare a meno anzi ha bisogno sempre più di energia per produrre sempre di più rispetto a quanto ci metteranno le persone a rendersi conto non so se tu vedi l'industria è già in piedi di guerra quindi penso infatti il rapporto della Corte dei Conti che citava Enrico metteva anche in guardia il governo sulla possibilità concreta che le industrie tedesche iniziassero a delocalizzare per via dei costi dell'energia troppo alti quindi è un pericolo assolutamente concreto allora ho un'ultima domanda io e poi se non ne altre Fulvio vediamo prendere qualche domanda dalla chat allora tu hai detto prima che in Italia per il nucleare secondo te non c'è la mentalità può darsi che sia vero però sicuramente noi abbiamo visto tante persone cambiare idea con il nostro lavoro sul nucleare e sicuramente sarebbe aiuterebbe a cambiare la mentalità delle persone se i giornali come il Sole 24 Ore su cui tu scrivi lo menzionassero un po' più spesso invece c'è una sorta di tabù cioè se se ne parla male se ne parla se bisogna parlarne bene quasi nessun quasi nessun giornale lo fa tu hai mai pensato di menzionare di più il nucleare nei tuoi articoli o hai delle linee cioè ti viene imposto dall'alto di non farlo allora guarda noi siamo quella piccolini quindi noi abbiamo non raggiungiamo sul sole sono un ospite nel senso appunto non essendo neanche giornalista figurati Econopoli nasce dal diciamo dallo sguardo visionario di Alberto Annichiarico che diciamo ha capito che creare una rubrica di specialisti di analisti quindi non di giornalisti quindi di persone che raccontano ma di persone che invece studiano gli specifici argomenti potesse essere un diciamo un prodotto innovativo nuovo e funzionante non ho la più pallida idea delle dinamiche redazionali né del sole né di alcun altro di nessun altro quotidiano io penso che molto banalmente sia che la stampa registra una certa ostilità da parte dell'opinione pubblica però attenzione io prima ho detto una cosa un po' diversa cioè ho detto che vedo dei grossi ostacoli sulla strada del nucleare in Italia non sono sicuro attenzione che nel medio lungo periodo non si torni al nucleare ma perché perché dall'altra parte c'è l'incognita delle bollette io ripeto qui non non ci rendiamo conto lo scrive a clò ex ministro su rivista energia di mesi fa mi pare qui si inizia a pensare di vedere la benzina a 3 euro al litro tra due anni d'accordo io ho visto le proiezioni standard and global global parliamo di un raddoppio della bolletta nel giro di 10 anni avevano messo a ferre fuoco Parigi per molto meno qualche anno fa ecco quindi io poi sai ma gli estremi estremi rimedi non metterei la mano sul fuoco che il nucleare non ha nessun futuro in Italia ti dico che per oggi è una tecnologia problematica per il popolo nimbi per eccellenza no? sì no ma io su questo sono d'accordo anzi sul nimbismo ne abbiamo scritte di ogni la mia domanda era secondo me c'è un appiattimento tutto qui e poi come ti dicevo prima chi sono gli advisor del nucleare? cioè il giornalista bene o male non è uno studioso dell'argomento quindi ci dovrebbe essere l'equivalente di legambiente ok o le associazioni di promozione dell'energia solare ok che fanno la stessa cosa per il nucleare ci dovrebbe essere il mercalli del nucleare ci dovrebbe essere siamo noi ok però siamo ancora piccoli però ci stiamo espandendo ok quando vi vedrò sulla RAI allora poi ne riparleremo dicendo vedi che ora c'è lo spazio quello è il punto però perché la RAI non ti chiama perché io questo lo vedo anche su di me quindi perché bene o male seguono il flusso ora il flusso sono i rinnovabili l'auto elettrica l'hamburger vegetale tutta sta roba qui non è il nucleare non è il CCS non è il DAC non è il Simfuel ok quindi bene o male non possiamo chiedere ai media di anticipare il dibattito questa è una recriminazione che voi dovreste fare forte e chiara al livello superiore io più volte nei miei articoli non mi nascondo nel senso me la sono presa tranquillamente con le scienze e con tutte queste riviste divulgative perché è lì il problema cioè se quelli che hanno in mano la comunicazione tecnica non mandano i giusti input ai mass media i mass media neanche lo sanno che esistono quegli argomenti lì perché giustamente sono generalisti capito quindi non ci vedo da questo punto di vista degli interessi forti contro il nucleare quanto che non ha spazio in ambito tecnico comunque prima di passare alle domande sono molto d'accordo sulla penultima cosa che hai detto cioè che molto probabilmente non saranno gli effetti del cambiamento climatico che faranno veramente cambiare idea insomma riguardo al nucleare o cose del genere perché sì uno li vede però penso che sarà molto più efficace vedere aumentato di molto il prezzo della benzina o il prezzo dell'energia elettrica o cose del genere rispetto per l'appunto cioè lo dico con rammare però temo che nel diciamo in un periodo temporale molto più ridotto sarà l'aumento dei costi che dovremmo pagare sempre di più rispetto agli effetti del cambiamento climatico che farà capire a molte persone la necessità se non altro di rivedere questo questo piano energetico guarda io spero che su questo tu abbia ragione io non sono sicurissimo che non vedrà gli effetti del cambiamento climatico sulla sua pelle perché 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 oltre alla parte clima c'è la parte meteo come stiamo vedendo e sulla parte meteo c'è il rischio cioè se arriva il nubifraggio sbagliato nella città sbagliata in Italia rischia che ti crolla tutta giù eh quindi qual è però il punto è che comunque questi danni qui li devi mettere in prospettiva la bolletta che ti aumenta è ora è subito ok per quello io sono abbastanza convinto che poi prevarrà quell'altra cosa il lavoro lo perdi oggi non è che poi ti avvisano che lo perderai tra tre anni ok arriva la lettera sei licenziato e lì quello diventa la tua priorità di vita istantaneamente fatto che ti dicano tra dieci anni i poli si sciolgono eh ma è tra dieci anni se non ho pensieri per la testa mi preoccupo però se ho impellenze più a breve scadenza ovviamente mi preoccupo stabilendo una gerarchia il cambiamento climatico viene dopo il fatto che ho perso il lavoro e c'è mio figlio che va all'università e gli devo pagare le tasse universitarie su questo sono sono molto d'accordo infatti vedremo nei prossimi cinque dieci anni allora eh prendiamo qualche domanda dal pubblico quindi alcune alcune le hanno già scritte altri se volete scriverle adesso dico solo due cose prima di allora alcune persone hanno fatto domande che non riguardano il tema di questa live qualcuno ha chiesto per esempio di parlare di fusione nucleare abbiamo fatto una live dedicata al tema con alcuni dei principali specialisti italiani gente che letteralmente lavora a iter e a demo quindi ve la andate a rivedere non prendiamo le domande che diciamo non sono attinenti a questo tema soprattutto è inutile fare il confronto tra la fusione e le altre forme di produzione energetica perché la fusione non ce l'abbiamo e quindi è come confrontare la generosità di Bill Gates filantropo con quella di Babbo Natale che non esiste se ci fanno domande scomode le cancelliamo e li bagniamo come fa? ah no scherzavo quello lo fa allora Sandro Boschetto chiede ci sono innovazioni di rilievo sul trasporto di energia a lunga distanza se sì potrebbero essere una soluzione possibile per appiattire la duck curve tra i vari paesi continenti che io sappia no nel senso che sì ci sono linee sempre che riducono la dispersione eccetera eccetera ma sostanzialmente non so bene se capisco addirittura la domanda cioè si parla di linee elettriche si parla di trasporto energetico a lungo raggio tramite navi oppure oleodotti gasdotti sostanzialmente le tecnologie sono sempre le stesse ora ovviamente nello sviluppo della scienza dei materiali possiamo auspicare delle linee ad alta tensione anzi oltre che nello sviluppo dei materiali anche nel fatto che la tensione cresce quindi queste linee prima erano ad alta tensione poi sono diventate ad altissima tensione e domani ci saranno le linee ad ultra tensione probabilmente sempre per ridurre la dispersione elettrica durante il tragetto però di base rimane il principio di una volta meno la trasporti meglio è l'energia ed è per quello anche che voi sentite ripetere sempre più spesso le comunità energetiche eccetera 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 che l'idea è quella di produrre l'elettricità il più vicino possibile al luogo di consumo allora c'è una domanda di Massimiliano che ci chiede se conosciamo il libro cioè ha trovato il libro a casa sua l'illusione nucleare io non lo conosco dice che dentro vediamo non so neanche di chi si parla di alcune cose come la CO2 messa per la costruzione della dismissione delle centrali di tutte queste cose ne abbiamo già parlato sulla pagina comunque quando parliamo di emissioni di gas climalteranti non consideriamo solo una frazione della vita non prendiamo solo il momento in cui la centrale è in funzione sarebbe facile lì non stai emettendo si considera tutto il ciclo vita quindi dal momento in cui estrai l'uranio al momento in cui finisci di smaltire la centrale e i paper che ho trovato in letteratura riportano i dati esattamente come per tutte le altre fonti di energia su tutto il ciclo vita e anche considerando per l'appunto tutto il ciclo vita il nucleare è quella che ha le emissioni più basse insieme all'eolico al fotovoltaico dipende da seconda dell'impianto eccetera però gli ordini di grandezza sono quelli molto molto inferiore ai combustibili fossili il libro onestamente non lo conosco su questo secondo me bisogna sottolineare una cosa che persino il cuore della narrativa diciamo della linea antinuclearista cioè l'IPCC ammette che il nucleare è pulito semplicemente pone l'accento su quel discorso che voi avete debuncherato più volte quindi non voglio entrarci ma insomma sui rischi per la sicurezza del nucleare ma che questo sia ben chiaro a tutti nessuno mette in discussione il fatto che il nucleare sia pulito d'accordo allora purtroppo qualcuno tra l'altro la stessa nessuno di serio perdonare la stessa in tutti gli scenari per il net zero prevede un aumento del nucleare e nello scenario più probabile quindi quello in cui il trend di crescita dei consumi elettrici si mantiene quello che è adesso quindi c'è una linearità nel trend di crescita dei consumi elettrici l'aumento del nucleare dovrà essere qualcosa come il 510% in più quindi si però attenzione che ci sono le critiche feroci interne sicuramente voi conoscete che è in Caldeira eccetera eccetera cioè c'è tutta una parte della comunità scientifica che ha fatto parte dell'IPC cioè come relatore panelista autore dell'IPCC che dice l'IPCC ha una visione prevenuta sul nucleare ma come ce l'ha sulla DAC come ce l'ha sul CCS cioè ce l'ha su tutte le opzioni che non siano le rinnovabili ma nonostante questo comunque le patologie c'è un aumento del nucleare quindi anche solo stando all'IPCC che pure ha una diciamo posizione estremamente prudente chiamiamola così sul nucleare non c'è non c'è uno scenario in cui non prevedono un aumento di cioè dell'ordine delle centinaia del 100% o più cioè l'aumento minimo è 260% nello scenario più meno nucleare di tutti allora Gabriel chiede ti chiede Mariutti cosa ne pensi della riforestazione quanto si potrebbe fare piantando alberi poi semmai su questo possiamo dire anche qualcosa di Luca comunque ti lascio il rischio io guarda sono un grande fan della riforestazione ma ritorno al discorso prima macro e micro la forestazione è un'opzione micro non è un'opzione macro cioè non è che noi mettiamo al sicuro le prossime generazioni piantando alberi anche questa è una pacifica illusione riforestando noi che cosa possiamo fare possiamo contrastare più aspetti della crisi ambientale contemporaneamente il dissesto idrogeologico la perdita di biodiversità l'effetto isola di calore per i centri urbani e catturare quantità modeste di CO2 modeste però d'accordo poi soprattutto non arriveremo mai al net non arriveremo mai alle negative emissions solo piantando alberi ok di contro io nel libro che ho scritto ho dedicato due capitoli uno alle foreste e uno all'agricoltura perché in un paese come il nostro quindi non stiamo parlando della strategia globale di contrasto al cambiamento climatico stiamo parlando di un caso molto specifico l'Italia in un paese come il nostro che ha la fortuna di trovarsi nella fascia climatica in cui le foreste assorbono più CO2 perché le foreste miste che abbiamo noi sono molto infinitamente più produttive dal punto di vista carbonico delle foreste tedesche russe svedesi o finlandesi arrivano a catturare probabilmente 10 tonnellate di CO2 l'anno per ettaro ok in un contesto come questo l'agricoltura rigenerativa che non ha niente a che fare né con biologico né con biodinamico è semplicemente quella quelle pratiche agricole misto chimiche perché di solito sono misto organico chimico che servono a stoccare carbonio sotto terra d'accordo quindi non hanno nulla a che fare né col bio né col biodinamico combinando queste due opzioni in Italia noi potremmo fare un gran bel pezzo del percorso di decarbonizzazione ma ripeto perché siamo un paese molto particolare ok quindi vuol dire che abbiamo un settore agricolo estremamente dinamico eh che però di contro è anche in mano agli incentivi pubblici e quindi in buona sostanza risponde molto rapidamente rispetto alle politiche perché ovviamente dipende dagli incentivi è molto specializzato insomma ci sono tanti fattori che fanno sì che nel nostro caso i territori potrebbero essere un asset quindi ci potrebbero aiutare a compensare il 30 al 40 al 50 per cento delle emissioni è ovvio che però appena andiamo in Germania questo discorso lo prendiamo e lo buttiamo nel secchio perché un'economia industriale vecchio stile come quella tedesca con le piante ci fa poco allora ho una domanda io che in realtà è un misto di due o tre domande che sono e cioè in generale i rinnovabilisti come li chiamo io tendono a presentare delle soluzioni tecnologiche in divenire come la soluzione futura e in chat ce ne hanno chiesto almeno di due e cioè qualcuno ha chiesto delle navi con delle turbine installate a bordo che producono energia dal moto ondoso credo qualcun altro ci ha chiesto della possibilità di fare energia solare con dei satelliti geostazionari e convogliare la terra in qualche modo e un'altra soluzione che viene spesso citata come quella che risolverà il problema è l'eolico troposferico questi specie di aquiloni che stanno in alta atmosfera allora ovviamente in alta atmosfera il vento è molto più costante che in bassa atmosfera e quindi effettivamente avrebbero dei capacity factor maggiori tu quanto le consideri attuali queste tecnologie quanto consideri probabili che possano venire implementate a livello su scala mondiale entro i prossimi dieci anni allora guarda sull'eolico ad alta quota che si possa ritagliare una sua nicchia non lo escluderei perché come hai detto tu ha un buon capacity factor e perché poi comunque se ci pensi abbastanza in linea con quello che stiamo facendo no? cioè dal momento in cui hai le palle fare la pala 2.0 è più semplice rispetto che inventarti una tecnologia completamente nuova bisogna anche considerare che sarebbe uno sviluppo dell'eolico l'eolico già ce l'hai quindi non escludo che vedremo questa roba qui addirittura se non sbaglio Eni aveva fatto degli studi di fattibilità sull'eolico ad alta quota quindi per dire che comunque è un'opzione ampiamente analizzata strutturata eccetera eccetera vedremo insomma ecco mi fa molto ridere pensare che qualcuno creda che sarà un jolly no ovviamente sarà l'ennesima nicchia come la Tidal come tutte quelle che stanno venendo fuori ora una tra le tante opzioni probabilmente molto costosa e sulle navi quell'altra cosa che dicevi i satelliti geostazionari appunto siamo a livello di andare a prendere il rame a 170 km di profondità oppure nei meteoriti negli asteroidi near earth cioè stiamo parlando di fantascienza i giapponesi avevano pensato hanno dei brevetti per fare appunto queste colonne di energia che sono qualcosa praticamente da quello che ho capito di simile al wifi bene o male cioè concettualmente qualcuno parlava anche di supercapacitori e supercondensatori come alternativa alle batterie no no assolutamente no ma queste sono delle leggende che ogni poco hanno questa vampata sui mass media ma poi infatti volevo dire proprio quello tutte queste cose qua servono per fare gli articoli su facebook instagram ma quelle pagine anche qui non facciamo nomi che ci fanno 12 mila miliardi di like che ti mettono la turbina eolica a bordo strada nelle autostrade spostata dal vento generato dalle auto e le persone pensano che potrà dare un contributo significativo vabbè allora ti chiedono mi sono perso la domanda scusa ah sì è una domanda personale questa ti chiedono cosa ti spinge ad occuparti tra chi e di Luisa di ambiente a livello così profondo il lavoro i soldi il futuro dei figli la filantropia l'amore per le piantine che cosa diciamo che da da analista questo è un campo molto interessante perché di analisi ce n'è ben poca cioè siamo nel piano dell'identity politics no quindi se vi ricordate destra e sinistra di Gabber oramai si decide se sei ambientalista da come parli e da come ti vesti non se poi da quello che tu dici abbia una reale valenza ambientalista no e poi di contro a livello personale io sono molto diverso da come mi molto spesso mi dipingono questi questi nazi nazi verdi non so come se sacerdoti verdi nel senso che io amo fare le vacanze in scandinavia incredibile sono fungarolo mi piace andare a pesca ho un'azienda agricola e quindi diciamo non non ho una visione romantica come molti degli ambientalisti che non escono mai dalla città della natura però di contro è una dimensione dell'esistenza verso cui sento un'attrazione cioè comunque la natura anche qui poi bisognerebbe fare un discorso che io ho provato a buzzare tante volte ma è complicato bisognerebbe dire che noi non siamo ospiti sulla terra questa grande di nuovo perdonare il francesismo questa grande cazzata che viene ripetuta all'ospinimento noi siamo ospiti sulla terra ma neanche per sogno da quando l'uomo riflette la prima cosa che si è chiesto ma io qui che ruolo ho d'accordo il primo a rispondere è stato Platone e poi in realtà è stato Aristotele che ha sistematizzato la risposta di Platone nella scala nature in cui in cima c'è l'uomo e poi a scendere tutte le altre creature e non è una questione antropocentrica è semplicemente un ordine di complessità degli esseri viventi poi è arrivata la filosofia cattolica Sant'Agostino che ha detto ok la scala nature però prima dell'uomo c'è Dio ma bene o male negli ultimi duemila anni duemila e cinquecento anni non abbiamo avuto dubbi sul fatto che sulla terra siamo padroni ma questo che vuol dire che io odio le piante e gli animali ma neanche per sogno le piante e gli animali sono un privilegio per me ok è questo che è importante per me essere umano è una quantità di bellezza è una connessione con le mie origini molto importante e non c'entra nulla dire io su questa terra sono padrone non vuol dire quindi ora distruggerò tutte le piante e tutte le altre forme di vita io sono padrone vuol dire che io ho una responsabilità sulle altre piante sulle altre forme di vita sulle altre forme di vita cioè è una prospettiva diversa è tutto qui questi questa questa subcultura sottocultura ambientalista new age non so come definirla ha come cifra fondamentale l'irresponsabilità pensate ora noi abbiamo un problema che sta subendo un effetto valanga e la nostra strategia è non metterci le mani cioè dire ok smettiamo di emettere così possiamo dire non centriamo nulla ma che mi importa a me di che centro o non centro nulla io voglio risolverlo questo problema vorrei morire avendo la certezza che le generazioni successive risolveranno questo problema anche grazie al mio aiuto a questo proposito c'è una domanda di Giuseppe pensi che sia reversibile il cambiamento climatico sono almeno 20 anni che sento che abbiamo pochi anni a disposizione ma sono comunque passati 20 anni qual è la verità poi a questo aggiungo anche la domanda di Jacopo che chiede se scriverai un articolo sul nucleare sul Sole 24 Ore allora sicuramente è reversibile qual è il punto non tutti gli effetti sono reversibili occhio che può sembrare un sofismo ma invece non lo è cioè noi possiamo tornare quando vogliamo all'optimum climatico che vuol dire agire sulla concentrazione di CO2 e riportare quella valvola bellissima metafora che hai utilizzato quella valvola che decide il nostro clima nella posizione ideale poi è ovvio se nel frattempo si sono sciolte le galotte polari quello ci vogliono migliaia di anni per rifarle ok o i ghiacciai sulle alti ok quindi bisogna non confondere i due piani alcuni effetti del climate change non sono reversibili quantomeno in una prospettiva umana ok il climate change cioè la variazione di temperatura rispetto alla media preindustriale quello è ovvio che si può invertire e poi c'era la seconda anche si scriverai un articolo sul nucleare per non rispondere no no vedi mi sono ricordato che c'era qualcosa forse scriverò quella cosa dei 40 gigawatt perché è molto interessante e soprattutto apre anche la si ritorna al protocollo di Kyoto il protocollo di Kyoto diceva battiamo le missioni dove conviene farlo quindi i paesi ricchi paghino i paesi poveri per diventare l'hub della decarbonizzazione ok noi in questa situazione qui che cosa potremmo fare dire noi non abbiamo le condizioni per installare potenza nucleare almeno per il momento sul nostro territorio intanto iniziamo a pagare un paese terzo per farci questa cosa qui ok stiamo già pagando i francesi un certo numero di miliardi all'anno no no però attenzione non per comprare l'energia no no delocalizziamo il problema cambiamento climatico era questo il senso la soluzione al problema cambiamento climatico tra l'altro a questo proposito ce ne volevo dare parte il fatto che moltissimi paesi in via di sviluppo oggi per fortuna si stanno si stanno affacciando al nucleare quindi tra diversi paesi africani il bangladesh il pakistan in brasilia hanno approvato la costruzione di un nuovo reattore in argentina stanno costruendo remodulare la turchia non la considera un paese in via di sviluppo nel senso che è alle porte dell'unione europea però ci sono ancora una marea di domande però ci stiamo avvicinando le due ore che di solito noi consideriamo come termine ultimo anche perché io devo cambiare sedia questa sedia è scomodissima dopo due ore qua sono distrutto per questo io devo scenare perché comunque qui ha le latitudini le nove no tranquilli non c'è problema allora concludiamo facciamo ancora un po' di domande rimaniamo nelle due ore tendo a dire che sapete qui ha le latitudini centrali insomma tendiamo ad avere una giornata più spostata verso le ore tardi a parte che vabbè questo è il primo giorno in cui si respira perché sono due giorni che a Roma fa un caldo micidiale allora Marco Roddo chiede quali sarebbero i migliori siti in Italia per costruire centrali nucleari però questa ti invito a leggere ne abbiamo parlato sulla pagina puoi trovare dei post al riguardo comunque avevamo già delle centrali nucleari in Italia avevamo cinque se non sbaglio e quindi si potrebbe pensare di andare a vedere se almeno alcuni di quei cinque siti quattro siti hanno quattro siti hanno ancora la licenza il quinto no perché non hanno mai avviato il rettore esatto perfetto poi c'è la domanda invece che a me interessava diciamo la domanda tanto quanto la metto in sovraimpressione ma in generale il discorso della decrescita che oggi moltissime persone soprattutto ambientalisti oggi sono contro la crescita il modello capitalista diciamo di crescita e per questa famosa decrescita felice che come dire non convince molto gli economisti però sembra che se parli di se parli contro la decrescita felice tu sia per forza dalla parte del capitalismo c'è già c'è anche chi ci ha criticato per averti invitato perché siccome scrivi sul sole 24 ore questo ci rende automaticamente servi di confindustria ovviamente io tendo a fregarmene però in generale questo paradigma della decrescita è per forza cioè questo paradigma della crescita è per forza solo capitalista? una piccola precisazione a me è capitato di scrivere un articolo sul sole 24 ore e venire ripreso da giustizia e libertà ok sul sito proprio me l'hanno ripreso in toto giustizia e libertà quindi per dire che in realtà queste divisioni a compartimenti stagni perché anche io conosco ho sentito gente che mi ha detto guarda ah ma è scritto sul sole no allora non lo leggo io vi inviterei a stare non a voi intendo dire a chi ragiona in questa maniera qui a stare molto attenti perché voi siete praticamente il bersaglio perfetto per la propaganda nel senso che siete il targeting ideale cioè vi informate solo ed esclusivamente all'interno della vostra bolla io farei molta attenzione a vederla così oggi mi è capitato di commentare un articolo che ho letto ovviamente scritto da Zanchini che è il vicepresidente di Lega Ambiente sul manifesto e non è che mi sono fatto problemi a considerare degno di discussione un articolo perché scritto da un dirigente di Lega Ambiente o sul manifesto dovremmo abbandonare questa forma di settarismo che impoverisce e basta il dibattito su questo argomento quanto al capitalismo quella del capitalismo è veramente una buffonata perché il mito della crescita continua non nasce con il capitalismo nasce con l'essere umano d'accordo cioè se voi vedete il famoso detto o meglio l'auspicio che i propri figli conducano una vita migliore rispetto a quella che hanno hanno condotto i genitori ok ma questo è il mito della crescita infinita cioè se ogni figlio deve condurre una vita migliore del genitore dato che stiamo parlando del fatto che un figlio poi diventa padre ok quindi è una conseguenzialità vuol dire che dovremo continuare a crescere costantemente perché se no i figli a un certo punto vivranno una vita uguale o peggiore a quella dei genitori no è un problema di logica qual è il discorso del capitalismo ma poi di qualsiasi sistema economico è che noi nei nostri 6.000 anni di storia prendendo la fase storica quindi tagliando via la proto e preistoria noi nei 6.000 anni di storia che abbiamo sperimentato fino ad ora siamo diventati sempre più ambiziosi tutto qui quindi il capitalismo certo che è più efficiente nel garantire crescita rispetto al modello precedente ma esattamente come il modello il prossimo modello sarà più efficiente del capitalismo ma perché dietro ci sono le nostre i nostri desideri le nostre ambizioni i nostri sogni d'accordo cioè il paradigma della crescita noi ce l'abbiamo nel cervello d'accordo ma se ma voi immaginate perché poi questo discorso vive su binari paralleli è una cosa abbastanza particolare ma vorremmo veramente dire che la cura per il cancro non sarebbe un orizzonte che farebbe felice tutta l'umanità penso che sia una banalità dire no questa cosa qui vi rendete conto che impatto sulla crescita avrebbe se la gente smettesse di morire di cancro ma quello non è il mito della crescita infinita ma la gente di che cosa pensa che si parla quando si parla di crescita cioè le scarpe di lusso tutto quello che non è necessario esiste perché essendo esseri emotivi d'accordo abbiamo dovuto elaborare un sistema complesso e contraddittorio per ottenere però le cose che contano cioè le scarpe di lusso servono a far aumentare l'aspettativa di vita in un collegamento contraddittorio poco diciamo comprensibile però è quello cioè il consumismo tutta questa tutto quello che è il diciamo le facezie ok quello che non è le necessità sono state coltivate e sviluppate perché poi ci siamo resi conto che in una maniera o nell'altra servono a far aumentare il ritmo dello sviluppo ma quello core cioè la medicina la tecnologia cioè si fa sempre questo esempio che è una banalizzazione ovviamente però per far capire ma quante grandi invenzioni dobbiamo all'aria condizionata perché comunque lavorare con 40 gradi o lavorare con 25 non è la stessa cosa ecco questa ovvio è una banalità però è per far capire cioè noi siamo delle cose estremamente complesse ed è inutile cadere nella stessa trappola di Marx che pensava che eravamo dei computer ok aggiungo solo una cosa non voglio che parlare di comunismo e capitalismo però anche le società comuniste consumano energia cioè non pensiamo no no ma guarda che neanche io voglio entrare la dimensione chi contesta Marx è Gramsci quindi come vedi è una cosa che non c'entra nulla con le ideologie chi parla di chi parla generalmente questo l'ho preciso come nota politica chi parla di opporsi al modello della crescita cioè chi parla di decrescita sostenibile non è sicuramente un comunista nel senso marxista o anche sovietico del termine cioè l'Unione Sovietica è una grande potenza industriale che buttava metà del suo pil in ricerca atomica quindi non scherziamo no no ma io facevo un discorso diciamo di filosofia politica no 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 appunto è un'ideologia è un'ideologia pauperista la cui unica applicazione che mi viene in mente forse è il comunismo cambogiano dove ci fu dove ci fu dove fu tentato proprio il ritorno alla ruralità quindi l'abolizione dell'industria il comunismo puramente agricolo la collettivizzazione delle campagne e una carestia da un milione e mezzo di morti su tre milioni di popolazioni forse anche i primi vent'anni del maoismo volendo ma anche il kibbutz la versione comunista adesso non voglio dire una cavolata del maoismo insomma quando ci fu no no i primi vent'anni prima del dao e jin prima del grande balzo in avanti sì forse sì e poi quando ci fu il grande balzo in avanti anche lì hanno irregimentato tutti i fiumi per fare dighe idroelettriche per produrre acciaio scherziamo no ma io comunque facevo riferimento alla famosa era un discorso di filosofia politica la famosa critica di Gramsci a Marx che gli dice Marx tu però hai escluso quella che si definisce la sovrastruttura in lessico marxista cioè che le persone hanno sogni speranze eccetera 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 e che non è che si comportano come un treno che va sui binari da una stazione all'altra no cioè devi anche cercare di capire per dirigere le persone anche qui la classe dirigente è un concetto inventato da Gramsci comunque per dirigere le persone devi imparare a capire che non sono perfettamente razionali ecco l'ambientalismo invece cade nella trappola di Marx cioè in cui dice allora la gente gli spieghi che c'è questa cosa qui quindi si comportano tutti di conseguenza e quindi risolvi il problema ma dove hai vissuto ma in quale mondo ma non funziona mai così ogni due tre post sulla nostra pagina ci sono quelli che arrivano con l'idea geniale a cui non ha mai pensato nessuno e cioè di ridurre la popolazione umana bisogna bisogna fare il controllo delle nascite bisogna siamo in troppi su questo pianeta io gli dico sempre che comunque una soluzione per toglierne almeno uno di mezzo ce l'hanno sempre a portata di mano sì ma appunto cioè quando dico queste cose che vuol dire allora ti do il mitra vai inizia parti dove vuoi andare ammazza tutti cioè che discorso è parlano di controllo delle nascite sostanzialmente è un altusianesimo che non ha mai funzionato una volta nella storia cioè ci hanno provato i cinesi e poi si sono resi conto che non funzionava anche perché se fai il controllo delle nascite con l'obiettivo di mantenere la popolazione costante ancora ancora ma se fai il controllo delle nascite con l'obiettivo di ridurre la popolazione ti trovi in una situazione in cui una finestra che sono tutti anziani esatto e devi mantenerli e già lo stiamo vivendo adesso in Italia quindi figuriamoci se fosse una roba a livello mondiale pensa che no ma poi comunque gli devi sparare perché in Africa dirgli che non devono fare figli gli devi sparare poi puoi pensare che fai una legge ma poi è che in Cina volevano solo figli maschi che quindi quando c'erano figli e femmine facevano il modo di non averle io pensavo semplicemente al fatto che non so i musulmani quanti sono al mondo due miliardi due o tre miliardi parliamo di una fede in cui fare figli è una parte molto importante della realizzazione dell'essere umano cioè mi sembra veramente di nuovo non voler riconoscere che ci sono tanti ordini di complessità che poi voglio dire l'unico il modo più provato l'unico modo che ha funzionato finora nella storia per far far meno figli alla gente è quello di aumentare lo sviluppo umano e ridurre la mortalità infantile se sei certo che i due figli che fai arrivano a 80 anni non fai il terzo se sai che se sai che uno morirà a 8 anni di carenza di vitamina A un altro a 15 su una mina e un altro a 22 prima di fare figli di un'altra malattia allora di figli ne fai 15 ma certo Luca siamo arrivati vicino alle due ore prima di concludere c'era una domanda di Mirko Boretti che volevo leggere che non so se è rivolta a noi o a Enrico penso a noi che ci chiede se faremo di corsi di formazione in merito a questi argomenti ora onestamente questo non ce l'hanno mai chiesto Luca e non penso che non potremmo neanche hanno chiesto di fare degli interventi delle conferenze ma i corsi di formazione non ancora se però ce lo chiedono ci si può organizzare vabbè lo mettiamo tra le mille cose da fare a chi lo proponiamo il corso di formazione a quanto pare abbiamo tutti questo armadio qui quello delle mille cose da fare sì 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 assolutamente bene bene va bene allora andiamo a concludere questa live che per quanto mi riguarda è stata molto interessante ho visto abbiamo avuto comunque un ottimo risponso abbiamo toccato i 300 spettatori e siamo stati intorno ai 250 per la maggior parte del tempo io ringrazio moltissimo Enrico nel caso lo inviteremo di nuovo grazie a voi notizie interessanti notizie interessanti da commentare e lo trovate comunque su Econopoli sulle 24 ore lo trovate su Twitter non so se utilizzi anche altri hai anche pagine social o cose così Facebook ma più che altro alliello personale LinkedIn non l'ho installato da poco tutti questi social è un impazzimento per quel che mi riguarda e niente ringraziamo ringrazio è stato un piacere grazie a te Enrico e buonanotte a tutti grazie a tutti se avete seguito